Fervono i preparativi per la tredicesima edizione del Memorial Shabbarrasi organizzato dall'omonimo Motoclub fondato dal padre di John, Michele, al fine di tenere vivo il ricordo del figlio tragicamente scomparso in sella alla sua moto il 25 aprile del 2004 in un incidente sulla strada che collega il Ponte 5 Archi a Santa Caterina, un motor ad uno che si terrà lunedì 25 aprile. L'appuntamento per i partecipanti in sella alla propria moto è prevista alle ore 8.30 in Viale della Regione. Alle ore 10.30 dopo le iscrizioni la carovana proseguirà per le vie della città alla volta di Santa Caterina dove ci sarà una sosta e la benedizione dei caschi. Questo Memorial viene ricordato anche da tutti gli amici che vengono da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Sono sempre più numerosi, abbiamo raggiunto un rapporto grandissimo tra amicizia e rispetto. Anche Johnny era sempre rispettoso per gli altri, aveva sempre il sorriso sulla bocca. Diciamo che è possibile questo per tutti questi amici che abbiamo. E in più devo dire grazie pure al nostro direttivo perché si impegna tanto, ma si impegna proprio tantissimo. Quest'anno sta facendo proprio cose meravigliose. Siamo andati a Malta, siamo andati ad Alessandria, siamo andati un po' in giro per l'Italia, sempre portando il ricordo di mio figlio Johnny. Il 25 ci incontreremo al punto di ritrovo di Viala della Regione, alla Leni, dove c'è un grande spazio che ci ha riservato il gestore del distributore. Questo spazio è riservato per tutta la mattinata, dove ci incontreremo con tutti i motociclisti provenienti da tutte le parti, dalla Sicilia e tanti pure dalla Calabria. Dopodiché, dopo aver fatto la colazione, aver fatto tutta l'iscrizione con i gadget e tutto, si parte per fare il giro della città con una sorsa sopra casa mia.